Proseguono serrate le indagini a Trani per chiarire movente e identificare il o i responsabili dell'omicidio del 21enne Antonio Mastro Donato ucciso con quattro colpi di pistola calibro 9 in via Superga all'esterno di un centro scommesse. Gli uomini della direzione distrettuale antimafia di Bari coadiuvati dagli agenti del commissariato di polizia di Trani nel corso delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Calrmelo Rizzo della procura della Repubblica di Bari hanno recuperato pochi metri più lontano dal luogo del delitto l'arma. Intanto ascoltati numerosi testimoni e compiute alcune prove dello stub mentre vengono analiticamente visionate le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona fondamentali per capire in quanti abbiano agito effettivamente identificare il sicario che potrebbe aver ucciso a volto scoperto. Secondo quanto ricostruito la vittima sarebbe stata colpita alle spalle dopo che il killer l'avrebbe chiamata per farla voltare. Mastro Donato avrebbe cercato di sfuggire i colpi nascondendosi tra le autovetture in sosta non escluso neanche che qualcuno o forse un suo amico abbia anche provato a difenderlo ma senza riuscirci. Molteplici intanto le piste eseguite sul movente del delitto dal giro di droga, le estorsioni ma anche secondo gli investigatori una resa dei conti in seguito ad una discussione avvenuta un giorno prima nella stessa zona del delitto. Antonio Mastro Donato ricordiamo il figlio di Vincenzo Salvatore arrestato nel 2014 e condannato a otto anni e otto mesi di reclusione con l'accusa di aver sequestrato e minacciato di uccidere dandolo in pasto ai maiali un 37enne di Palo del Colle che era stato incaricato di ritirare a Torino un carico di droga del valore di 100 mila euro e che dopo essere partito con un acconto di 45 mila fece ritorno a Bari senza soldi né stupefacenti. Via Superga, zona nord di Trani, è stato già teatro di altri omicidi in passato. Nella stessa via solo un anno fa si era consumato un altro delitto, quello del 39enne Otello Bagli e del tentato omicidio di Gianluca desimile.